sono gabry costa dopo i quattro finali speciali di battle circuit di capcom beat map bundle oggi recensirò l'ultimo finale speciale con captain silver alias andry mishushin che cosa posso dirvi ormai ho recensito tutti e cinque i finali speciali di battle circuit in questo capcom beat map bundle posso anche salutarvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace e condividetelo sono contento che avete visto questi cinque finali speciali di battle circuit non mi stancherò a dirlo bene ciao a tutti la recensione finita ciao a tutti